È una giornata particolare, oggi è il 14 luglio, è una giornata simbolica, con un segnale che rimanda nei secoli e arriva fino ad oggi, è molto importante raccoglierlo e declinarlo ovviamente nei termini della modernità e di un sistema complesso come quello con cui si è misurato nella sua lunghissima attività Edgar Morelli, che sarà il centro della nostra riflessione, che condurremo con Mauro Ceruti e Ugo Morelli. 14 luglio, ricordiamo e riflettiamo su Edgar Morelli che ha appena compiuto i suoi cent'anni, sui splendidi cent'anni, tra l'altro da quello che abbiamo potuto constatare vitalissimi cent'anni, a cent'anni lui progetta ancora, questo è un segnale di speranza importante, Edgar Morelli è stato ed è il filosofo della complessità, il filosofo che si è misurato con le questioni che riguardano il nostro presente, la nostra contemporaneità e dunque ci sembrava particolarmente utile farlo discutere della sua lezione, della sua esperienza e delle sue linee di lavoro con Mauro Ceruti, che è studioso, un filosofo della complessità, docente allo Iulme di Milano, molto attento e curatore di un omaggio, che non è soltanto un omaggio cerimonioso a Edgar Morelli, compilato, pubblicato dall'editore Mimesis Cento Morelli, Cento Edgar Morelli che si compone di cento contributi, di amici, di testimoni, di compagni di viaggio, del pensiero della persona di Edgar Morelli, a cui è anche appunto il contributo di Ugo Morelli che abbiamo con noi questa sera per discutere di Mauro Ceruti, di questa grande personalità. Io partirei dal 14 luglio, perché insomma mi fa molto piacere partire da questa data e capire quante di quelle parole simboliche oggi hanno ancora un senso, libertà, uguaglianza, fraternità. Si è molto discusso in questi tempi, in questi anni, in questi decenni, della capacità di concretizzare e di articolare sui temi della contemporaneità questi valori. Ha ancora un senso farlo, Ceruti? Ha un senso profondo oggi più che mai. E oggi più che mai prende senso, come potremmo dire, la grande trascurata di questa tre triade, la fraternità. Gli ultimi due secoli sono stati i secoli della libertà e dell'uguaglianza. Libertà e uguaglianza insieme, complementari e appunto in una prospettiva complessa, possiamo leggere, anche antagonisti. Si sono aiutate come idee guida e nello stesso tempo contraddette fra di loro in questi due secoli. Ma sono state le protagoniste, sono state le protagoniste della politica liberale, della politica libertaria, sono state le protagoniste dell'emancipazione umana, dell'abolizione della schiavitù, dei diritti e della libertà dei lavoratori. Ho perso la linea. Sì, sì, no, ce l'abbiamo. Ce l'avete? Ecco, ho perso la vostra visione, ma non so come fare a recuperarla, ma se mi sentite mi vedete bene. La libertà ha dominato le grandi conquiste sociali, politiche, ideologiche, in particolare dell'Occidente, e in particolare nel XX secolo. L'uguaglianza è stato il mito bandiera, ereditato in particolare dalle tradizioni socialiste e durante il Novecento nei paesi del socialismo reale. Laddove spesso ha trionfato la bandiera della libertà, è stata messa in tono minore la bandiera dell'uguaglianza, in Occidente in particolare. Viceversa, quando si è accelerato sull'uguaglianza, si è calpestata la libertà. Però la fraternità è stata relegata nell'intimità, nell'intimità religiosa, non ha più avuto un valore politico. Oggi più che mai, invece, nel pensiero, per esempio, di Morenna, che in questo si è incontrato con le ultime due encicliche, oltre che personalmente con Papa Francesco, il pensiero di Morenna, l'azione di Morenna, ormai da tanti anni, si incentra sulla libertà come valore politico, come chiave di lettura politica per leggere il nostro tempo. In particolare, dopo la Seconda Guerra Mondiale, dopo Hiroshima, che è una data simbolo, una data cerniera, che separa un prima e un dopo nella storia dell'umanità, la specie umana, l'umanità, è diventata, grazie alla potenza del suo ingegno, delle sue scoperte tecnico-scientifiche, in particolare, in questo caso, di quella che forse è la più straordinaria avventura nella storia della scienza e della mente umana, la fisica delle particelle elementari, cominciata negli anni 20 e 30 del secolo scorso. La bomba atomica, che ha chiuso la Seconda Guerra Mondiale, ha introdotto una discontinuità nella storia umana. Per la prima volta l'umanità, la specie Homo sapiens, la nostra specie, è diventata una specie potenzialmente suicida. Si è generata una nuova possibilità, grazie alla potenza di questa tecnologia nucleare, la possibilità di un autoannientamento dell'umanità stessa. E questo ha generato un'analisi straordinaria che già da decenni Edgar Morena ha sviluppato. Ha generato un destino comune fra tutti i popoli della Terra. Ha generato l'umanità come una comunità di destino. E quindi ha generato una umanità che è oggettivamente caratterizzata da un legame necessario di fraternità. Nel senso, fra tutti, fra tutti i popoli della Terra, fra tutti gli individui della Terra. Nel senso che l'uso, come è stato fatto in passato più volte, fino alle estreme conseguenze delle armi per dirimere i conflitti, questa volta, dopo la bomba atomica, potrà generare una fine della guerra in cui non ci sarebbero più da una parte i vincitori e dall'altra parte i vinti. Ma solo vinti. Cioè l'uso intensivo di armi nucleari, oggi distribuite e controllate non solo dalle due grandi superpotenze, come nella guerra fredda, oggi un uso intensivo e massiccio delle armi nucleari può produrre, oltre alle morti causate direttamente, a una trasformazione delle condizioni della biosfera non più capaci di sostenere un futuro vivibile per l'umanità e per i grandi mammiferi. Produrrebbe quella che è stata definita una sesta estinzione, questa volta dall'interno, da parte di una specie vivente. Per questo, ecco, Morenne ha elaborato questa idea della fraternità quasi leopardiana, del leopardi, della ginestra. Siamo comunati da un destino comune, che ci accomuna allo stesso pericolo, agli stessi problemi di vita e di morte, e quindi la necessità che abbiamo davanti è di elaborare una cultura e una politica della fraternità non più solo come valore etico, ma come cifra di ogni possibile politica del futuro. D'altra parte, risuona qui il messaggio, e ci eravamo incontrati più volte a Firenze, nella Badia Fiesolana, con Edgar Moren e con Ernesto Balducci. Ernesto Balducci, in questo stesso orizzonte, aveva scritto nell'ultimo suo mirabile libro La Terra del Tramonto, discusso e presentato con Edgar Moren alla Badia Fiesolana, noi tre insieme, e disse, è l'uomo del futuro, o sarà un uomo di pace o non sarà. Cioè, siamo obbligati a uscire dall'età della guerra, e poi dello sfruttamento dell'ambiente, come ci dice la crisi che viviamo, per la necessità della sopravvivenza. Siamo obbligati a riconoscere nella fraternità, cioè nel gioco a somma positiva, vinco io, vinci tu, della fraternità, non più solo un valore etico condivisibile, ma anche una necessità di ogni progetto politico. e in questo senso oggi la fraternità è riconosciuta come un'utopia simo, un'utopia concreta, necessaria, divenuta necessaria a causa di questa comunità di destino che caratterizza l'umanità, per garantire il futuro stesso, il futuro stesso dell'umanità. Ecco, grazie Ceruti, perché ha disegnato con questa sua riflessione una triangolazione, delineando un campo, su cui chiedo di intervenire, in cui chiedo di intervenire Ugo Morelli. C'è 8 luglio, la data di nascita di Erdogan Moren, cento anni fa. Ricordo, tra l'altro, per ricollegarmi alle, come dire, alle tensioni che Ceruti evocava, Germania anno zero, prende il titolo da un lavoro di Erdogan Moren, però segna l'inizio, diciamo, di una ripartenza dopo il secondo conflitto mondiale. 14 luglio, l'anniversario della presa della Bastia, e oggi, il presente, un momento di crisi che viviamo in questa condizione di emergenza pandemica, ancora viva, purtroppo è pulsante, con le cifre che rimbalzano nel bollettino della pandemia da Covid-19 quotidiano, insomma, in questa triangolazione c'è un campo teorico, un campo concettuale, densissimo, pieno di concetti, pieno di questioni, pieno di punti, di riflessioni. Ugo, prego, Ugo Morelli. Grazie. Grazie Generoso, grazie Mauro, di aver accettato Mauro Ceruti, che io chiamo Mauro, perché, a proposito di fraternità, per me è lui, io sono figlio unico, per me è un fratello, e lui lo sa, la stessa cosa so che è per lui, per me, e mi piace dirlo pubblicamente. Quella triangolazione di cui parla Generoso Pittone, è una triangolazione nella quale ci siamo mossi da tempo. Negli anni in cui, grazie all'iniziativa di Mauro Ceruti, abbiamo potuto costruire una rivista che si è chiamata Pluriverso, e che ha ospitato pensieri che si sono inseriti poi nell'onda aperta da intellettuali particolarmente importanti, Edgar Morin certamente è stato uno di questi, noi parlavamo in quegli anni della prima possibilità per il genere umano, nel senso che il tempo in cui viviamo, che ha le caratteristiche critiche che abbiamo già sentito, sia dall'intervento di Generoso Pittone che da quello di Mauro Ceruti, è un tempo che è anche potenzialmente un nuovo inizio. Edgar Morin insiste sempre su questo aspetto, cioè sulla ambivalenza della crisi, la crisi come qualcosa che finisce, ma la crisi come anche l'utero del possibile. Mi piacerebbe sollecitare Mauro Ceruti su un punto che a Morin è particolarmente caro e che ha a che fare con l'estensione del concetto di fraternità. un'estensione che naturalmente non dovrebbe nella fase in cui viviamo limitarsi considerando la pandemia e considerando la crisi ecosistemica che noi esseri umani principalmente abbiamo prodotto con una serie di processi che poi magari analizzeremo. Mi piacerebbe sollecitare Mauro Ceruti su questa possibile estensione. perché probabilmente come suggerisce da qualche tempo un intellettuale che a noi è stato caro e tuttora è caro nel tempo che è Bruno Latour, il nostro problema oggi non è solo quello di affermare un nuovo umanesimo, ma forse è quello di considerarci finalmente terrestri e quindi estendere il concetto di fraternità al sistema vivente se per fraternità si intende la ricerca delle condizioni della reciprocità che peraltro non è qualcosa da conquistare soltanto ma è qualcosa che anche ci precede nel senso che senza la cura della reciprocità con il sistema vivente Mauro Ceruti richiamava Papa Francesco la laudatosi da questo punto di vista è un documento veramente fondamentale frutto di un processo di ricerca e di studio particolarmente attento e che ci segnala che non solo abbiamo bisogno di praticare la ricerca delle condizioni della fraternità possibile tra le molteplici espressioni dell'umano sulla terra ma abbiamo bisogno di estendere questo concetto in un'epoca che provvisoriamente definiamo antropocene cioè quell'epoca nella quale per citare Tattersall siamo diventati i signori del pianeta nel senso che dominiamo dominiamo il pianeta e purtroppo anche lo distruggiamo non rendendoci conto per esempio che la nostra illusione di aver abolito tutti i predatori è stata messa in discussione da un predatore invisibile quale Covid-19 che sta facendo di noi una specie particolarmente in crisi e particolarmente sottoposta alla sua presenza e alla sua azione ecco non è forse il tempo questo di superare persino il confino di specie e rendersi conto che noi siamo parte di un sistema vivente e non siamo in nessun modo sopra le parti e però siamo una specie che è capace di rendersi conto di questo e quindi che non solo sa ma sa di sapere questo sì Ugo è come sempre in modo così sintetico ma preciso definito i contorni dell'orizzonte nel quale dobbiamo iscrivere innanzitutto la nostra riflessione oltre che le nostre azioni la nostra crisi la crisi della pandemia ha rivelato tutto ciò certo abbiamo avuto altre occasioni siamo in ritardo straordinario e lo siamo nelle nostre politiche ma lo siamo anche nei nostri sistemi educativi gli strumenti per pensare il nostro tempo li abbiamo da decenni le campane d'allarme dei rischi e dei pericoli le abbiamo già come dicevo prima da diversi decenni ma le abbiamo rimosse se è vero che l'arma nucleare ha trasformato la condizione umana poi c'è stata l'arma tecnologica interpretata secondo quello che è stata la prospettiva vincente nella storia dei secoli moderni e codificata all'inizio della nostra modernità da un grande filosofo René Descartes Renato Cartesio noi siamo maître possessor della natura padroni e possessori della natura e guardate non è soltanto questo un concetto morale e politico ma è un concetto antropologico perché introduce una concezione codifica una concezione nell'età della scienza e della tecnologia del trionfo della scienza e della tecnologia una concezione che vede l'essenza dell'umanità la nobiltà dell'umanità nella sua separabilità della natura nella sua possibilità di essere estratta ed astratta della natura anzi più si darà scienza adeguata quanto più l'osservatore umano riuscirà a costruire un punto di vista astratto dalla sua implicazione dalla sua relazione con la natura e tanto più riusciremo a dare corso al progresso sociale ricordiamoci che la nozione di progresso è la grande invenzione della modernità europea occidentale fino al 500 ma di fatto al 600 pensare a qualche cosa come un progresso cioè pensare al fatto che nel futuro ci potrebbero essere cose nuove e per di più migliori e per di più che concernono la qualità della vita e della conoscenza umana era un'idea assolutamente impensabile se mai ci potesse essere o ci poteva essere un miglioramento questo stava nel ritornare all'età dell'oro al punto di partenza da cui c'era stata attraverso il tempo fattore di disgregazione come diceva Nassimandro e con lui tutta la filosofia greco-latina solo decadenza allora è in questa possibilità di estrarsi dalla natura di astrarsi di mettersi fuori di istituirsi a dominatrice l'umanità attraverso la sua tecnoscienza che sta la possibilità del progresso è stato proprio il progresso lo sviluppo della tecnoscienza attraverso questa interpretazione a mettere in evidenza l'inadeguatezza di questo principio ma per la valorizzazione stessa della scienza e della tecnologia al fine del miglioramento della qualità della vita umana dicevo oltre alla bomba atomica e questa interpretazione dell'utilizzazione della tecnologia al fine di porsi al di fuori al di sopra della natura per dominarla e sfruttarla senza limiti che ha portato a questa seconda spada di Damocle che fa dell'umanità della nostra umanità una specie capace di auto di auto annientamento e il fatto di esserci separati dal senso di fraternità con gli altri esseri viventi e anche con ciò che c'è di non vivente nel nostro oikos nella nostra casa nella nostra matria madre terra terra patria terra terra patria che anche come dire ha introdotto una mancanza di fraternità fra gli esseri umani stessi perché il progetto di dominio e di sfruttamento della natura al fine del progresso è stato realizzato attraverso una competizione a somma zero vinco io per di tu fra i popoli della terra all'interno dei popoli fra i dominanti e i dominati le due cose come hanno messo in evidenza molto bene sia Edgar Moreno nella sua monumentale opera sia come citava Ugo Morelli nelle due encicliche di Papa Francesco le due crisi sono strettamente collegate la crisi cosiddetta ambientale cioè la crisi del rapporto uomo-natura è strettamente collegata alla crisi di una società diventata planetaria che è fondata sulla logica del gioco somma zero ai tempi della mia adolescenza si parlava dei terzi mondi del terzo mondo i ragazzi d'oggi questa parola non sanno cosa voglia dire anche perché i paesi di soli 30-40 anni fa del terzo mondo sono diventato primo mondo e l'Europa che era il motore della mondializzazione è diventata una povera cosa una piccola provincia del mondo e però gli esiti della sua mondializzazione cioè della sua esportazione di questo modello diciamo dell'essere padroni e possessori della natura e dell'esserlo attraverso il conflitto fra paesi ricchi e paesi poveri è classicamente diventato un modello per i paesi del già terzo mondo oggi diventati primo primo mondo terra patria titolo del libro diciamo a questo proposito a proposito cioè del tema introdotto da Ugo Morelli manifesto straordinario pubblicato nel 1993 da Edgar Morin e fratelli tutti l'ultima enciclica di Papa Francesco già nella loro espressione riassumono l'orizzonte che Ugo hai definito la necessità di un capovolgimento di un cambiamento di paradigma che esige visto che stiamo festeggiando ma utilizzando la creatività delle sue idee Edgar Morin esige una triplice riforma improbabile dice Morin ma necessaria una riforma del pensiero per passare da una modalità di pensiero come dire basato sulla frammentazione della separazione dell'uomo della natura sul riduzionismo sul riduzionismo una riforma dell'educazione che sappia insomma introdursi nel vissuto delle menti degli esseri umani e una riforma della politica queste tre riforme capiamo bene che devono si nutrono l'una dell'altra non ci potrà essere una riforma della politica si vede il deperimento planetario della politica a causa di un impoverimento di un deperimento di una desertificazione del pensiero eppure è la politica che fa le riforme dell'educazione ma le fa a partire dal paradigma che è causa del problema che noi dobbiamo affrontare e quindi elude come in un buco nero la necessità di una riforma del pensiero per questo siamo in una condizione come tutte le crisi che esige una meta riflessione una riflessione su come noi pensiamo alla crisi educhiamo nella crisi una delle coautrici insieme a noi di questo omaggio a Morena è peraltro una collega amica di Avellino Emiliana Mannese che ha scritto un testo proprio sulla pedagogia nella crisi per riflettere sulle proposte di Edgar Moren per cui sono d'accordo Ugo sul fatto che il problema è anche quello di ridefinire l'idea di fraternità perché l'idea di fraternità che è implicita nei progetti moderni è un'idea di fraternità chiusa all'on s'enfant e la fatri fratelli d'Italia sono tutte fraternità contro un nemico sono fraternità chiuse all'interno di una nazione sono fraternità che si nutrono del mito dello stato nazione basato sul confine che separa il noi dagli altri e fa degli altri dei potenziali nemici quindi dei nemici non fratelli la condizione planetaria di oggi insomma ha abolito oggettivamente la possibilità di questi confini anche se come in una sorta di colpo di coda di anacronistico stanno risorgendo in mancanza di quel pensiero che tu aspichi le fraternità chiuse le bandiere nazionalistiche non nazionali nazionalistiche anacronistiche perché potranno portare soltanto allo stesso male che hanno provocato con le due guerre mondiali in un tempo in cui potevano persino risultare plausibili in una logica di politica di potenza vinco io perdi tu vinci tu perdo io ma oggi risuona e vi rilancio solo questa battuta come attualmente inattuale nel senso diciano ma attualmente concreto quell'idea concreta quell'idea di fraternità universale che non a caso sia Papa Francesco che Edgar Morin ripescano da San Francesco d'Assisi che non è quel santo pazzerello che oggi ha una sua come dire un suo radicamento nella condizione umana la fraternità del futuro appunto o sarà una fraternità che accomuna l'umanità intera alla sua terra l'umanità intera a tutti gli esseri viventi oppure sarà un ribadimento delle fraternità chiuse che produrranno morti come dire morti a catena la fraternità universale oggi è l'orizzonte all'interno del quale sviluppare una riforma del pensiero che sia adeguata a questo ideale che non può essere semplicemente derubricato a ideale da anime belle né Edgar Morin né Papa Francesco né Ugo Morelli né non siamo anime belle è un grido d'allarme sarà possibile la fraternità universale ma da quello che ci dice la storia in questo momento è molto improbabile però la storia lunga dell'umanità anche la storia della terra ben più lunga della storia dell'umanità mostrano che quello che è improbabile in un determinato momento non è impossibile può diventare possibile oggi oggi più di ogni altra età della storia umana è importante la coscienza è importante la cultura è importante sapere che per avere coscienza della nostra condizione della nostra necessità di sentirci accomunati in una fraternità universale è importante avere una cultura è importante conoscere il valore da solo può se proclamato senza cultura diventare persino un boomerang per se stesso può trasformarsi nel suo posto o destinarsi al fallimento al fallimento ma c'è una battuta con cui adesso concludo questa mia piccola riflessione in accordo con con la tua Ugo è che appunto Morenne anche nell'ultima Alexio che ha fatto abbiamo organizzato per lui una grande celebrazione ufficialmente dell'UNESCO con la sottolegida del presidente Macron a Parigi e al termine della sua splendida chiamarla Alexio mi sembra raffreddarla in un universo accademico nella sua splendida confessione alla fine meditazione nel giorno del compimento anzi tre giorni prima del compimento del suo compleanno ebbe modo di dire sì è molto improbabile è molto improbabile che ce la facciamo ma anche se fosse impossibile per qualche ragione io non vedo altra possibilità che per il senso della mia vita e della vita umana che stare dalla parte di Eros non dalla parte di Thanatos e questo più di una volta però ha portato frutti inaspettati grazie Ceruti nel suo intervento colgo non soltanto il segno moreniano mi sembra un sostanziale utile importante omaggio proprio al pensiero di Moreno ma vorrei cogliere una parola che è rimbalzata che in qualche modo ha chiesto di predaliere sulle altre la parola politica noi ragioniamo oggi in un frangente di crisi del mondo per rimanere all'Europa del sistema occidentale così come l'abbiamo costruito insomma un sistema di crisi giunto a un livello di trauma insostenibile e chissà quando poi potremo vedere la luce da questo tunnel è entrato in crisi un sistema di sviluppo la risposta che l'Europa cioè il luogo caro di Carlo Ren sta dando a questa crisi di sistema secondo lei è una risposta che si nutre dell'attenzione al nuovo manesimo alle parole del gran Morenna di Papa Francesco oppure è una risposta io temo a questo punto spero di essere convinto del contrario scritta con la stessa sintassi che ha portato alla crisi voglio dire il piano di sviluppo di resilienza come con un'orribile terminologia si dice non le sembra un piano che ha ascoltato molto come dire una linea economica e poco si è beverata a un canone teoretico filosofico sociale la politica in questa non ha mostrato una sua debolezza sostanziale sì sono d'accordo guardi otto anni fa con Edgar Morenne in un momento di difficoltà di crisi dell'Europa nove anni fa insomma l'abbiamo pubblicato abbiamo pubblicato nel 2013 un piccolo saggio intitolato la nostra Europa l'Europa esordivamo è in pericolo è nuovamente in pericolo come è stata più volte drammaticamente nella sua storia l'ultima volta nella seconda guerra mondiale Hitler era alle porte di Mosca la probabilità stava dalla sua dalla sua parte e poi in passato altre volte lanciamo l'allarme lanciamo l'allarme che appunto anche lì dicevamo ma è improbabile che questa disgregazione dell'Europa possa essere arrestato ma l'improbabile non è impossibile dobbiamo mirare ad una metamorfosi e cercare di cogliere questa inversione di tendenza appunto nello stesso modo in cui il bruco autodistruggendosi si trasforma autodistruggendo il suo bozzolo si trasforma in farfalla dobbiamo farci attraverso la cultura il pensiero complesso levatrici di questa improbabile metamorfosi e rinascita proprio l'altro giorno in un'altra nostra conversazione di queste celebrazioni lasciatemi fare una piccola parentesi affettuosa Morena cent'anni è attivissimo anche sui social scrive dei tweet che diventano virali uno di questo è sapienziali e le due cose messe insieme è difficile perché di solito virali diventano se va bene le stupidaggini altrimenti qualcosa di peggio e qualche giorno fa ma me l'aveva anticipato nelle una delle nostre chiacchierate del pomeriggio Skype e dice vi consiglio di non compiere cent'anni vi consiglio di passare direttamente ai cento uno a indicare lo stress che gli stava sollecitando insieme però insomma abbastanza in modo anche un po' gigione e affettuoso ma in una di queste diverse conversazioni che abbiamo fatto anche pubblicamente in queste ultime settimane appunto diceva ho perso la foie la fiducia la fede nell'Europa dice io non sono nato europeista sono diventato sono cresciuto nella cultura europea nell'universalismo europeo e francese Edgar Morin è il primo dei suoi a nascere in Europa i suoi genitori erano entrambi si sono conosciuti e fidanzati a Salonicco dove c'era una enclava ebraico sefardita Edgar Morin è figlio della diaspora degli ebrei sefarditi cacciati da Isabella la Cattolica con l'edito di Torquemada nel 1492 punto di partenza della ambivalenza dell'Europa moderna 1492 slancio di apertura scoperta dell'America scoperta della diversità scoperta dell'altro incontro colombiano però nello stesso 1492 dal cuore dell'Europa di allora da cui deriva come matrice l'identità complessa di Morena gli stessi regnanti spagnoli fanno la prima pulizia etnica che poi come una sorta di fuoco d'artificio come un frattale si diffonde in tutta Europa degli ebrei sefarditi che erano lì da prima della diaspora del 90 quindi spagnoli che svolgevano ruoli importanti e poi viene posto fine dopo 8 secoli alla permanenza islamica in Europa l'ultimo l'ultimo presidio era l'Emirato il regno di Granada che viene quindi pensate che in quell'anno a proposito appunto dell'orizzonte in cui riflettiamo sull'umanesimo Ugo oggi gli umanisti in quegli stessi anni alla domanda che cos'è l'Europa ecco generoso alla domanda che cos'è l'Europa rispondevano quasi con una definizione ossimoro l'Europa è un edificio l'identità ci rimanda quasi istintivamente all'unum all'uno l'Europa è un edificio che poggia su quattro colonne è uno e molteplice le quattro colonne erano per gli umanisti le culture delle tre grandi tradizioni monoteistiche l'ebraica la cristiana e l'islamica presenti in Europa e la quarta colonna riscoperta e rigenerata dagli umanisti del quattrocento e poi del cinquecento e quattrocento siamo lì alla fine del quattrocento che è la cultura della civiltà greca classica greca e latina però vediamo bene non ripresa direttamente ma attraverso la membrana critica della traduzione araba quella del grande califato e quella dell'islam della penisola della penisola iberica appunto e negli stessi anni Pico della Mirandola vagheggiava l'organizzazione di un grande concilio convegno concilio di un grande convegno che raggruppasse tutti i sapienti di tutte le tradizioni sapienziali religiose della terra allora conosciute e vedete come nelle matrici stesse dell'Europa moderna c'è la pulizia etnica e c'è questo sogno di un'Europa sogno consapevolezza di un'Europa che nelle sue radici e nel suo futuro deve essere una una emolteplice che si nutre la propria unità delle diversità e rigenera le proprie diversità fossero pure quelle nazionali attraverso sempre un progetto di unità come poi dirà successivamente Husserl nel in una celeberrima conferenza del 1936 tra le due oscurità della prima guerra mondiale e della seconda guerra mondiale che si sentiva stava accadendo nel sonnambulismo del come come titola un libro celeberrimo dei degli europei stessi e quindi questo questo sentimento dell'ambivalenza dell'Europa che ha generato la pulizia etnica ma anche lo spirito di tolleranza ha generato i totalitarismi ma è anche lo spirito di democrazia nelle sue matrici nelle sue matrici greche arriva fino ad oggi e però oggi Moren dice io ho scoperto l'Europa mi sono nutrito di cultura europea universalistica essendo il primo nato francese ebreo non educato alla sinagoga eccetera eccetera però sono diventato europeo mi dice nel 1973 quando fu evidente che l'Europa era diventata povera cosa povera cosa dipendente dal petrolio arabo non più di fatto motore motore del mondo e poi e poi sì il sogno di una di una federazione che ha indebolito i confini però oggi dice ho perso la fiducia ho perso la fede quella fede e quella fiducia che pure in qualche modo nella consapevolezza della difficoltà proclamavamo solo otto anni fa effettivamente oggi viene meno c'è comunque un'ambivalenza per dirla in due minuti in due battute l'Europa ha dentro di sé le potenzialità culturali di concepire come dire la complessità del mondo dell'umanità della terra del tempo della globalizzazione una è molteplice a causa proprio della propria storia che è stata devastata da conflitti identitari pur all'interno di un'unità culturale che non si è mai perduta perché indubbiamente anche nei pericoli più bui Shakespeare è di tutti gli europei Dostoievski è di tutti gli europei Giuseppe Verdi è di tutti gli europei Federico Fellini è di tutti gli europei così come Flaubert o Prusto o Galileo o Newton eccetera eccetera c'è questa c'è questa c'è questa cosa e però ecco nello stesso tempo le soluzioni che vengono proposte a questa crisi sono soluzioni che puntano come potremmo dire su soluzioni ipotesi ad hoc come quando un paradigma Ugo resiste alla rivoluzione si cerca di mettere delle toppe per dirle in soldoni si mantengono gli stessi occhiali che sono la causa del problema invece bisognerebbe cambiare gli occhiali per riformulare i modi in cui formuliamo i problemi per riformulare i problemi non per trovare soluzioni come dire più sofisticate agli stessi problemi perché il problema sta nella formulazione di questi problemi la crisi pare che non ci abbia insegnato nulla la metafora che usiamo tutti anche lei è così involontariamente utilizzata la metafora del tunnel insegna tanto perché la metafora del tunnel vuol dire che usciamo da un buio provvisorio ma poi ritroviamo lo stesso mondo di prima e quindi basterà il problem solving di prima la stessa idea di sviluppo che dovrebbe essere messa in discussione alla radice perché anche quando noi la addolciamo con l'idea dell'aggettivazione sostenibile la addolciamo la utilizzano le multinazionali la nozione fanno la pubblicità ai loro prodotti attraverso la nozione di sviluppo sostenibile la nozione di sviluppo è troppo ipotecata dall'idea che la nozione di sviluppo è trainata dalla tecnoeconomia e la tecnoeconomia oggi precipitata in una forma di neoliberalismo competitivo e individualistico è la causa dei problemi ma l'avevamo già capito nel 2008 con la crisi finanziaria non è servito non è servito a nulla qualcosina nelle brecce espressione che Morenne introdusse nel maggio 68 qualcosina si è introdotto nelle brecce che si sono aperte ma sono brecce che in qualche modo rivelano un sommerso associativo dei movimenti come dice Carlin Petrini radicati nella terra che però non arrivano a farsi opinione condivisa non arrivano a farsi ispiratrici del governo politico e che per di più anche loro in una sorta di mimetismo competitivo si separano gli uni dagli altri che ci si occupa dello slow food c'è chi si occupa dei pannelli solari c'è chi si occupa di questo ma è il paradigma la consapevolezza del fatto che dobbiamo cambiare lo sguardo sul mondo che viene a mancare e qui la grande assente è la scuola e in modo ancora più particolare l'università abbiamo fatto una riforma dell'università negli ultimi pochi anni fa io ero nel senato della repubblica allora provvisoriamente e inutilmente forse in cui per riformare il modello straordinario un boltiano che aveva garantito dall'età di Napoleone in poi l'università degli stati nazionali della rivoluzione industriale eccetera eccetera codifica per legge che i mattoni dell'università le istituzioni fondamentali dell'università sono i dipartimenti definiti per omogeneità disciplinare quando persino i premi Nobel ormai vengono rilasciati con discipline che mischiano almeno neuro psico immunologia eccetera eccetera e questo è il grande fallimento il fallimento di una scuola e di un'università che non hanno utilizzato non solo in Italia per carità in tutto il mondo non hanno utilizzato l'opportunità di questa crisi per capire quantomeno perché in questo momento di crisi e più in generale in questo momento di passaggio d'epoca le istituzioni educative non stanno dando un contributo di visione non stanno dando non stanno proponendo un orizzonte culturale un nuovo senso comune un'educazione alla complessità del nostro tempo la crisi che stiamo vivendo ha rivelato la natura del nostro tempo che è il tempo della complessità e complessità lasciatemi dire non è la complicazione che spesso si usano come uguali semmai l'opposto della complicazione non è l'opposto della semplicità è l'opposto complicato è un gomitolo che la mia cagnolina di lana prende o di corda lo aggroviglia però poi è complicato questo aggrovigliamento ma possiamo nuovamente con grande pazienza sciogliere i nodi e tornare alla linea il complesso invece è un insieme di parti dal latino cum plectere cum plectere plectere vuol dire intrecciare cum insieme più volte nel tempo e il fatto di intrecciarsi più volte nel tempo fa emergere dei comportamenti delle proprietà delle caratteristiche che non era prevedibile che potessero emergere a partire dall'analisi delle parti separate allora la nostra crisi rivela che il nostro è tempo complesso perché è vero che è una crisi sanitaria indubbiamente e ci fa paura ci ha fatto prendere provvedimenti ma è anche nello stesso tempo una crisi biologica che non è la stessa cosa nel senso dell'allargamento dell'idea di fraternità di fraternità a proposito che deve tenere conto dei virus che hanno una storia molto più profonda e lunga di noi che è una crisi sociale è una crisi del lavoro è una crisi economica è una crisi psicologica tutte queste crisi che hanno le loro catene causali però continuano a essere separate c'è chi studia la psicologia degli adolescenti separatamente dalla crisi sociale separatamente dalla crisi esistenziale dalla crisi economica mentre tutte queste crisi si alimentano l'una con l'altra e invece abbiamo degli esperti iper specializzati che ciascuno di loro vede un piccolo frammento lo illumina ma illuminando quel frammento lì fosse quello del virologo l'epidemiologo lo psicologo il sociologo il giurista del lavoro eccetera eccetera con lo stesso movimento con cui illumina quel frammento del problema acceca oscura tutti i gangli vitali che legano questa parte del problema agli altri e questa parte del problema può prendere senso soltanto se la rileghiamo la complessifichiamo che vuol dire rilegare con tutti gli altri ci si è preoccupati in questa crisi della scuola e dell'università di come attrezzare di computer ma non di come attrezzare elementi ma non di come attrezzare di contenuti specifici per cui questa che pur nella tragedia poteva essere una straordinaria opportunità educativa per riapprendere ad apprendere come apprendiamo noi stessi e il nostro rapporto con il mondo con la natura è stata un'occasione un'occasione fallita per questo io penso che l'Europa sta fallendo il suo il suo compito e anche questi questi progetti rischiano di essere progetti di riconversione dell'economia semplicemente semplicemente di facciata proprio perché utilizzati per per frammenti e questo potrà essere un pericolo grave per l'Europa perché o l'Europa come dire compie il suo processo federale e beh altrimenti oppure l'Europa in un mondo fatto di attori globali scomparirà e i rinascenti sovranismi e nazionalismi saranno non la difesa delle nazioni che sono altre cose ma la loro la loro uccisione definitiva perché sarà l'uccisione definitiva della diversità che fa la qualità dell'Europa quella che leg off mi ricordo una conferenza appena ero arrivato a Parigi a fare giovane ricercatore proprio nel centro subito dopo la laurea nel centro di studi trasdisciplinari antropologia e politica di che era stato fondato da Moren Roland Barthes e Claude Lefort vedo alla Sorbona un cartello dice domani conferenza del professor Jacques Le Goff grande storico grande narratore dell'Europa i più grandi insieme a Brodel dice agli studenti diciamo come sarebbe da noi delle scuole medie sul tema che cos'è l'Europa questo è molto europeo perché c'è una caratteristica dell'Europa e che da sempre gli europei si chiedono che cos'è l'Europa e si provano a parlarne da Atene in poi non esiste questo negli altri cosiddetti continenti l'Europa non è un continente è un microbo la penisola del grande allora io mi infilo e certamente non sapevo bene il francese non ero abbastanza giovane per fare la scuola media francese non ero abbastanza vecchio per essere confuso con l'insegnante però c'erano circa 400 ragazzini con degli insegnanti e allora il professor Legoff con il suo pancione il suo panciotto e la sua pipa calda dice allora partiamo da una vostra domanda chi di voi e allora mi ricordo c'era in fondo io ero lì vicino e l'ho visto un insegnante da di gomito un ragazzino che si chiamava Jean-Louis Jean-Louis dice mi fa la domanda allora dice monsieur le professor qu'est-ce que c'è l'identité d'Europa che cos'è l'identità d'Europa c'è una domanda aveva avuto 13-14 anni gliel'avranno scritta e lui dice bravo bravo Jean-Louis bravo Jean-Louis l'identità d'Europa anche qui come gli umanisti no di 500 anni prima e la sua diversità interna diversità di cultura diversità di modi di cucinare di modi di fare il vino era un bel ghiottone diversità che però si nutre di un'unità misteriosa che continua a rigenerare le diversità attraverso complementarità ai conflitti ma attraverso una unità culturale di fondo perché vedete senz'altro vi hanno insegnato a scuola che l'Europa è un continente è certo è uno dei cinque continenti ma guardate bene avevano installato una cartina di carta non c'era guardate bene non ha le cara tutti gli altri continenti hanno dei confini hanno sono grandi sono circondati dal mare l'Europa è una piccola penisoletta del grande continente euro-usiatico allora come è stato come è potuto accadere che quello che chiamiamo Europa abbia potuto farsi percepire anche istintivamente come continente anche sulla carta sulla carta geografica ma perché l'Europa non è stata mai un'identità come potremmo dire geografica o geologica è fin dall'inizio un progetto di civiltà inedito e non soltanto un progetto di civiltà inedito ma un progetto di cultura e di civiltà che ha continuamente nel tempo subito delle metamorfosi a fronte della grande stabilità invece delle civiltà e delle culture pure straordinarie di altri continenti quindi quella che è la crisi oggi dell'Europa è una delle tante crisi potrebbe essere a causa della globalizzazione la crisi la crisi finale e senz'altro c'è una inadeguatezza di cultura politica nella classe dirigente una subalternità della politica alla dimensione economica non solo europea ma planetaria una crisi nella capacità di selezionare la classe dirigente e soprattutto una crisi di quella che è stata l'invenzione geopolitica dell'Europa moderna e cioè lo Stato-Nazione lo Stato-Nazione non è più sulla scala dei problemi Stato-Nazione definito da confini territori interni e sovranità assoluta i problemi di oggi vediamo la pandemia sono trasnazionali superano i confini non unificandosi l'Europa rischia non solo di non percepire la trasnazionalità globale dei problemi che deve affrontare ma neanche la trasnazionalità all'interno di quella piccola cosa che è la geografia la geografia europea improbabile la salvezza dell'Europa ripeto ma improbabile non è possibile io penso che comunque anche in questo caso citando Moren bisogna stare dalla parte dalla parte di Eros e attraverso Eros in tutti i modi anche quelli piccoli e conviviali e affabili come quello che ci regalate oggi sono decisivi potrebbero essere decisivi come effetti farfalla perché nel mondo complesso vale piccole cause e grandi effetti bisogna puntarci Ugo a te la parola Mauro Ceruti ha richiamato prima la questione del pensiero e la questione della conoscenza noi oggi qui diciamo così facciamo festa mi piace questa espressione a Edgar Morin a cui io personalmente devo moltissimo e tutti noi dobbiamo molto secondo me ma abbiamo con noi Mauro Ceruti uno dei fondamenti portanti del suo pensiero cioè di Mauro Ceruti è l'epistemologia non dobbiamo dimenticare che l'epistemologia genetica e una interpretazione dell'epistemologia ha dato vita a una svolta fondamentale nell'ultimo quarto di secolo del 1900 che nasce per iniziativa di Mauro Ceruti e Gianluca Bocchi a Milano e che dà vita a quella che tuttora rimane una sfida quel titolo la sfida della complessità importantissimo libro più e più volte riedito prima da Feltrinelli poi da Bruno Mondadori rappresenta un riferimento tuttora per il confronto e il dibattito anche nel caso in cui chi si avvale di quella prospettiva non la cita e non la considera uno dei punti fondamentali di tutta quella prospettiva di cui Edgar Morana è uno degli interpreti diciamo così più importanti perché una linea della produzione scientifica e culturale di Morana ha a che fare col metodo la metodica è uno dei suoi contributi più importanti espresso in più volumi ha alla base la critica frontale a due parole una delle quali Mauro ha già usato il riduzionismo combinato con un altro problema che è il dualismo sotto traccia nei ragionamenti nell'ultimo scambio tra Mauro Ceruti e Generoso Piccone questo aspetto è molto importante è molto importante perché perché ha fortissime implicazioni riguardanti lo sviluppo della conoscenza del pensiero e per derivata ma non solo per derivata anche relative alla crisi della politica e alla chiusura eccetera eccetera purtroppo e qui su questo punto vorrei sollecitare Mauro Ceruti nonostante il grande impegno il grande sforzo che è stato profuso da parte di mi permetto di dire di alcuni di noi a a sostenere questa prospettiva cioè a sostenere la prospettiva di un pensiero che fosse capace di accogliere la sfida della complessità e di abitarla o di cercare di abitarla noi viviamo oggi un'epoca di forte rinculo e di forte recrudescenza viviamo un'epoca nella quale non siamo capaci di capire che fissarsi sull'ente e non considerare il valore delle relazioni tra gli enti non solo non ci permette di avere una conoscenza appropriata della realtà ma ci fa chiudere nei nostri nelle nostre turri seburne nelle nostre mura individuali collettive eccetera viviamo in un'epoca nella quale si ha l'impressione che se io ho sete se ingerisco una certa quantità di idrogeno e una certa quantità di ossigeno separatamente io mi possa dissetare l'acqua ovviamente pur essendo costituita da quelle particelle è una proprietà che non è riducibile a quelle particelle e questo problema in campo accademico in campo culturale è un problema che abbiamo incontrato come come dire come un osso duro come una questione con la quale facciamo fatica a fare i conti e le cui conseguenze hanno a che fare con il ruolo del pensiero nelle nostre vite nelle nostre professioni per esempio nelle nostre attività di ricerca e di conseguenza Mauro richiamava la transdisciplinarità e di conseguenza sul piano sul piano della nostra vita collettiva c'è un rapporto molto stretto fra queste due cose anche a causa della carente mediazione che i processi educativi e formativi propongono allora mi viene da domandare a Mauro Ceruti mi rendo conto che è una domanda molto impegnativa però mi fa piacere valorizzare la sua presenza qui con noi quali sono le ragioni di queste resistenze con cui ci siamo misurati lo dico con grande affetto mi verrebbe da dire per un'intera vita perché una specie di legge di Gresham in base alla quale le cose peggiori si affermano continua a vincolare la possibilità di abitare una lettura del mondo all'altezza della sua complessità è una questione complessa che intreccia tante dimensioni ed è la questione come dicevi bene Ugo che attanaia e appassiona le nostre vite da 40 anni ecco e quindi cosa potere dire ora in pochi minuti immagino che siamo due o tre cose di promemoria Gregori Bezzon uno dei grandi pensatori della complessità del nostro tempo figlio di un grande biologo fra i fondatori della biologia della complessità allora marginale negli anni 30 del 900 lui psichiatra nello stesso tempo cultore di discipline orientali eccetera eccetera però insomma per farla breve in una delle sue straordinarie lapidarie affermazioni che riassumono come in un tweet un nuovo paradigma all'altezza di quelle di Morenna ebbe modo di affermare la relazione viene prima la relazione viene prima è un'affermazione vertiginosa in particolare per noi occidentali perché di fronte alla parola relazione quasi un riflesso condizionato immediato pavloviano noi rispondiamo fra chi fra cosa come se comunque sempre le cose vengono prima vengano prima delle relazioni le persone vengono vengano prima delle relazioni nascondendo il fatto che come al solito siamo nella circolarità come in un disegno di Escher noi siamo le relazioni attraverso cui nasciamo attraverso una forzatura etimologica ricordo di cui ebbi il coraggio quando lavoravo in una delle mie prime conferenze a Parigi parlando di epistemologia e di epistemologia della complessità ebbi così corsi il rischio di fronte a tanti mandarini accademici dire ma voi avete una lingua davvero bella lo sanno la credono la più bella del mondo ma per esempio connetra e connessans connetra netra in francese vuol dire nascere con vuol dire con quindi conoscere vuol dire nascere insieme attraverso delle relazioni connessans nessans vuol dire nascita con nascita insieme quando si dice ricordo una tua affermazione in uno dei seminari a cui mi hai invitato di formazione bellissima che suonava così Ugo ogni apprendimento è tale cioè un vero apprendimento se è un apprendimento condiviso qualcosa del genere avevi affermato il che vuol dire vuol dire che ogni apprendimento è tale non come va di moda dire adesso ma bisogna isolare le eccellenze farle andare più veloci creare dei piccoli giardini delle piccole oasi di eccellenze di meritocrazia nel nel deserto ricordo nel 2007 ho fatto un'esperienza interessante di riscrittura di quelli che chiamavamo i programmi scolastici e poi cadde quel governo però furono approvati per quello che riguarda il primo ciclo di istruzione e per ripensare l'insegnamento della lingua italiana e di molti colloqui con con il professor Tullio De Mauro compianto grandissimo linguistica ma anche potremmo dire grandissimo pedagogista cioè attento alla dimensione educativa e allora nascevano e imperversavano le polemiche col fatto che i bambini degli immigrati tenevano indietro insomma il ritmo dello svolgimento dei programmi e in particolare dell'apprendimento della lingua italiana a forza di analisi logica del periodo grammaticale i bravi bambini italiani ed è Mauro non per un'ispirazione ideologica ma sulla base di esperienze potremmo dire esperimenti condotti da tanti anni ma guarda che questa differenza linguistica è di grandissimo vantaggio per l'apprendimento della lingua perché facilita l'apprendimento condiviso e un atteggiamento meta riflessivo sugli errori su ciò che si dice sulle ambivalenze semantiche sui costrutti e questo si può fare soltanto in un'orchestra dove ci possono essere delle disarmonie perché attraverso l'esperienza della disarmonia che si riflette sulla quella proprietà emergente che viene dal plectere cum dall'intrecciare complessificare le parti fino a produrre una una polifonia condivisa in cui ciascuno partecipa apprendendo in modo proprio in modo suo proprio ciò che poi diventa un apprendimento un apprendimento condiviso ecco questo è un po' il cuore del problema vedete rispetto alla questione che poni la relazione viene prima una è la grande scoperta che fa la fisica all'inizio del novecento e la fa nel momento in cui raggiunge il suo apice la grande avventura di quella che è stata definita la scienza classica cioè da Galileo fino alla scoperta del mondo subatomico e poi della relatività einsteiniana e si scoprì che perché è lì che nasce la sfida della complessità si scopre che insomma non tutto funziona come funziona la natura alla scala dei nostri cinque sensi o dei loro prolungamenti diretti il cannocchiale il microscopio grandissimi sono i risultati della scienza del settecento dell'ottocento straordinari diciamo quello che la scienza del novecento mette in discussione non è non si può banalizzare così la scienza galileiana mette in discussione l'assunto appunto epistemologico filosofico che la razionalità la ragione il metodo che ha funzionato per conoscere cosa che è alla scala dei dei cinque sensi ciò che fa la fisica solo nel settecento e nell'ottocento possa valere per tutti i tasselli come diceva Galileo del mosaico della natura allora non tutti i corpi sono dello stesso tipo la definizione di corpo consolidata nel settecento e nell'ottocento meccanica razionale astronomia e si scopre che non funziona per conoscere quei corpicelli che sono l'elettrone il bosone poi eccetera eccetera ma che ciò che noi conosciamo del mondo subatomico non sono delle proprietà di oggetti che sono separati da noi da cui ci possiamo astrarre per tornare all'inizio del tuo stimolo Ugo di questa nostra conversazione ma ciò che noi conosciamo nel mondo subatomico mi pordorneranno i fisici se la divulgo così ma la sostanza è questa ciò che noi conosciamo sono le nostre relazioni con questi corpicelli sono delle relazioni e quindi dobbiamo avere un altro tipo di linguaggio ogni regione del mondo può avere un altro tipo di metode di linguaggio e scopriamo che questo vale che il conoscere per relazioni vale per il 99% dell'universo che stiamo conoscendo ora e che come lo conoscevamo prima è solo una piccola parte ma che cosa è accaduto è accaduto che uno la scienza della natura è molto più avanti delle scienze sociali oltre che della politica le scienze sociali più recenti per diventare scientifiche emanciparsi della filosofia sono state più realiste del re e continuano tutto sommato a esserlo continuano a puntare sulla quantificazione sull'oggettivazione continuano a ispirarsi ai modelli di conoscenza che andavano benissimo straordinari nella fisica se vogliamo del settecento e dell'ottocento e non hanno percepito che la fisica delle relazioni potrebbe servirli di più se poi vogliono avere un modello e che comunque il loro modello potrebbero anche farselo da sé più commisurato alla complessità di tutti i temi che sono quelli che avete proposto che avete proposto questa sera seconda cosa oggi la divulgazione scientifica nel tempo per antonomasia dell'importanza della tecno-scienza nel nostro mondo la divulgazione scientifica continua a essere fatta prevalentemente sull'immagine della scienza dell'ottocento e non sull'immagine della scienza del novecento cioè la scienza che ci può dare delle certezze la scienza che se ci dà delle incertezze è perché è ancora provvisoriamente incerta ma prima o poi sarà certa la scienza Ugo riduzionistica che tende a ridurre il complesso all'idea che sotto il complesso è solo apparente ma sotto sotto ci sono delle regolarità semplici e se una volta cogliamo queste regolarità semplici diventiamo padroni e controllori del fenomeno che stiamo studiando e martellare con questa divulgazione crea delle aspettative ambigue e ambivalenti nel senso comune cioè viene a mancare la possibilità di una grande pedagogia ed è venuta a mancare purtroppo in questa crisi dove hanno dilagato degli esperti di microproblemi ciascuno dei quali dava i numeri forse in tutti i sensi ma comunque dava dei numeri perché questi sono la cifra la cifra della verità il resto è la schiuma della birra che è meglio togliere se vogliamo bere se vogliamo bere se vogliamo bere la birra e ultimo fallimento ma ne abbiamo già parlato è quello della scuola che continua a insegnare saperi frammentati scienze di cui non si comprende il senso nella costruzione di un immaginario che oggi è decisivamente decisamente importante o sarebbe decisamente importante anche proprio l'immaginario scientifico per costruire quel senso di fraternità universale di cui appunto Ugo parlavi prima che non è il senso della fraternità delle anime belle che sono belle ma delle anime belle ma il senso delle anime colte delle anime che hanno contezza coscienza conoscenza del nostro posto di partecipanti all'interno della natura pur con un ruolo che oggi nell'antropocene diventa nuovamente decisivo co-evolutivo per l'insieme della biosfera e della terra patria questo fa sì che non riusciamo a comprendere per usare una battuta di Edgar Morin che mi faceva l'altro giorno a proposito della situazione politica che non riusciamo a comprendere l'incertezza del reale costitutiva continuiamo a pensarla con una misura della nostra provvisoria ignoranza superabile e non riusciamo a comprendere che c'è del possibile ancora invisibile e noi dall'interno della natura possiamo partecipare all'emergenza di un possibile perché questo ci ha insegnato in fondo nella sua parte creatrice non solo l'avventura umana ma l'avventura dell'insieme della storia della natura che noi conosciamo sempre di più come parte della nostra avventura grazie Ceruti grazie Ugo Morelli grazie Mario Ceruti potremmo continuare molto a lungo però come dire mi rendo conto che la discussione ha bisogno di stare in un limite come l'onda di Calvino bisogna fermarla in una cornice però è stata una discussione molto secondo me come dire che ha reso maggio all'elezione di Moreno ho visto innervate nelle vostre riflessioni soprattutto le vostre insomma molti temi che appartengono al patrimonio intellettuale di Edgar Moreno e probabilmente questa è stata la maniera migliore per rendere omaggio a lui una giornata come dicevo prima molto particolare come quella del 14 luglio c'è un'incompiutezza diceva prima Mauro Ceruti ricordando una battuta di Edgar Moreno un'incompiutezza che è la misura del senso del nostro impegno intellettuale bisognerà continuare per colmare sempre questa incompiutezza dell'uomo per fare in modo di poter realizzare io darei la parola a Ugo Morelli per come dire il saluto finale io vi ringrazio per l'attenzione grazie Mauro Ceruti e a ben vederci a ben incontrarci a questo punto di persona Ugo per il sigillo a questa conversazione grazie grazie il sigillo è un ringraziamento fraterno a Mauro Ceruti e al generoso Picone per aver voluto diciamo così accogliere l'organizzazione di questo incontro ma soprattutto la combinazione che trovo veramente commovente tra il 14 luglio per la rilevanza storica straordinaria di questa data che contiene un programma non è solo una memoria il 14 luglio perché i contenuti fondamentali della rivoluzione francese come abbiamo visto oggi sono ancora un programma e che programma a cui mettere mano combinati con la bellezza mi permetto di dire di aver potuto vivere di poter tuttora vivere la compagnia di un pensiero così straordinario di un'esperienza esistenziale così straordinaria quale quella di Edgar Morin non solo perché e già questo lo è è durata e dura cento anni augurandogliene ancora tanti ma perché la fecondità esistenziale gioiosa ricca e perché no anche inquieta con cui lui ha combinato biografia e pensiero rappresentano in sé un punto di riferimento per tutti noi lo sono stati e lo sono stato un punto di riferimento e continueranno ad esserlo quindi grazie a Mauro Seduti con un abbraccio e grazie a Generoso Piccone buonasera a tutti grazie a tutti voi grazie a voi grazie